allora richiede questo gioco dell'anima è di uno dei svapfos dei nomati e next ship ok anche prima bene ok uno scarico che non ho perché io non ho mai niente aiuto attenzione a questo qui non lo faremo cosa accade adesso qui c'è un tesoco in alto ovviamente e dopo questo ne manca uno tipo e vai 4 su 5 qui c'è un gioco che ci serve mi sa che lo aveva visto che lui da quel che ricordo è tipico dai degli tutti in tedesco adesso vado a vedere cosa vuol dire è d'ort frottel ma vado a vedere visto che sto studendo tedesco questa è un aiuto a vedere cosa vuol dire d'ort frottel ovviamente non ci dice un tifero perché qui non dico niente che vuol dire frottel allora non ci dica niente allora d'ort frottel bravo prima l'edizione questo telefono non so che non tu questo google traduttore hashtag ragazzo allora da oggi poi esce l'hashtag google traduttore sei inutile in tetesco che ci serve per attraversare questi rottami scommetto che va bene dov'è sto gips signor gips va che schifo questa è una pizza di cittadini va bene andiamo da signor gips aspetta signor squadro che non lo tenta che non lo tenta allora ovviamente qui c'è la verità velocità e io non ce l'ho guarda che sono fortunata qui c'è la dinamite qui c'è la dinamite qui c'è la dinamite dove c'è la cattolata posso tirare quella dinamite però aspetta 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 e vai non la posso tirare questa dinamite per ora ah è qua ok cosa fai vuoi farmi salvare in aria la porta? no si si scommetto che ti ci vorrò un cannone per entrare in quel villaggio fortunatamente ne ho uno giusto qua ecco qui questo vecchio cannone dovrebbe andar bene grazie signor gips signor gips lo sapevo che qui dentro c'è la gente ah aiuto aspetta nè aspetta aspetta sei sicuro di non aver rotto niente il negozio sarà il caso che vada ad accertarmene come si dice meglio contarsi reti prima di azzallare qualcosa e allora io adesso vedo a gambe la gambe via c'è un filo di scopo che ho spaccato tutto via 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 ora ci vediamo questa leva va da solo ovviamente questo cannone non fa niente ah lo sapevo io no ci vado adesso li prendo prega verso il grande un giocatore dirigente di gente di gente volta via rotta la portamiamo coloro rottamaio di coloropoli forse è per questo che il barone di coloropoli è la persona più ricca di tutte le isole nubi aperte si dice che compri qualunque tipo di rottami purché possa poi ribellarlo al triplo del suo valore cavolo è bella e prova questo star questo shuffling è un meccanismo guardiamo le monete qui gioco sto perdo perché altrimenti questi metri di colore io ho più salti lunghi proprio io non so fare i salti lunghi l'altro hashtag già non so fare i salti lunghi ma lei capita ne ha più a fare i salti lunghi posso proprio dare una pippa c'è qualcosa qui è un'incorso ah no sono un indietro allora ci diamo vanti di ma vanti vedo un'arena qui sta fantastico ovviamente prima c'è il gaggole di fuoco avevo il gaggole di pepe si vanta di avere il golem di tega sto qui da fare solamente le ondatone che non è che sa fare chi sa che si vanta quindi qua dobbiamo andare via mi piace buongiorno, rivederci subito qui qui scherz via il qua bene questo sito e malvagizzo adesso vedi qua facciamo la check point vediamo questa pizza formato la prena per carità ok vediamo di fare potenziamento di quello che c'è in valigia è molto codato per carica l'attacco con i cembali quindi la sua parte che ha trovato invece ho portata un paio di cembali la sblocca tata o cembali cembali da sfondamento fa ancora più danni aspetta che con cembali che sono davigenti un molto semplice per sfondare e festeggiare questa cosa invece aveva giocato tre più di angolo per ancepio ieri la ventosa foco del fuoco ai nemici peccato che non c'è 2.000 monete ah che carino l'ho già conosciuto 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 per sta in movimento, in movimento. Ho sbagliato. Quanto cazzo di rifiuto c'hai. Vedo l'ora di poi che ti ammazzate. Vai le persone, così ti demarvagizzano. Ma perché fanno queste delle persone che mi portano dalla sua parte. Qui c'è forse un gigante. Allora, mettiamolo subito. Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Windup, Windup. Windup, Windup. Vieni qua, Windup. Dai, appunto, questo, perché, a te, ci sono le monete, mia, 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 due. Vabbè, 20.000, però sono due peccate. Pizza calda, ma non c'è voglia di pizza adesso. Vediamo, qui c'è qualcosa. Là c'è whiskers. Qui c'è solo le fogne, che bello. progettell'elemento magia sono più totti in questa zona. Che schifo. No, che schifo le fogne, mia, mia magia, ma quella già è bellissima, stupenda. Ma cos'era? Ah, perché si andiamo dall'altra parte e io sono tornato dalla parte, sta bene. Commentare nei posti segreti e portare tutti quanti vabbè rilasciarlo in questa zona aspetta ahhh sta cosa era con il triangolo mi pare, è scelto il triangolo ahhh ecco dove è riporta riporta lì sotto questo coso la vedo anche l'acqua ovviamente l'acqua non c'è l'acqua di saputo che c'è ancora ahhh no sono caduta ovviamente non ci posso andare ho fatto fuori come una molla a vivere a vivere a vivere a vivere